Hey! Bentornati sul canale. L'altro giorno vi ho parlato di Emotet, il Trojan dedicato alla diffusione di malware attraverso campagne di email. Oggi si affronta un argomento simile, o meglio, ci si ricollega sempre al campo della sicurezza informatica. Zero Logon. Cos'è questa volta? È una pericolosa falla di sicurezza che, tranquilli, non colpisce Windows 10, quindi la maggior parte degli utenti, però coinvolge l'edizione server. Il nome tecnico è CVE20201472. Praticamente, con questa vulnerabilità, un malintenzionato può sfruttare l'exploit, così prende il controllo completo di un dominio. La spiegazione dettagliata ve la lascio con la documentazione Microsoft. Io sono qui solo per spiegarvi nel generico e soprattutto gli avvenimenti. Ad agosto, Microsoft è intervenuta, rilasciando diverse patch di sicurezza e avvertendo del pericolo. A fine settembre, dopo aver comunicato all'azienda il problema, visto che sono coinvolte specialmente loro, Microsoft ha pubblicato una pagina di assistenza dedicata a questa vulnerabilità, con informativa dettagliata e tutti i passaggi da seguire per una risoluzione. 6 ottobre, poi non vado avanti perché non ho la sfera di cristallo, ma sicuramente ci saranno novità in futuro, spero positive. MS torna a mettere in guarda aziende e società, riportando che questi attacchi hacker provengono dall'Iran. Dai, se siete nella situazione di pericolo, aggiornatevi sull'accaduto. In descrizione vi lascio tutto quello che serve e che c'è al momento. Noi ci vediamo ad un prossimo video.